E poi ci sono loro Luke, Eva, Benny e Sam Sono dei supereroi Iron Fist White Tiger Nova Power Man Da lunedì Ascendetevi al piano Arriva la nuova stagione di Marvel Ultimate Spider-Man Il più grande supereroe ritorna in una settimana evento Niente popcorn in questa sala? Sette nuovi episodi Vieni d'azione Come fa? Le grandi emozioni Andiamo alla grande Preparati a nuove incredibili avventure Come te la cavi? Marvel Ultimate Spider-Man La nuova stagione Grazie a tutti